Siamo tornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata di Terra. Dopo aver affrontato i cambiamenti climatici la scorsa puntata, voglio parlare di un argomento che è molto importante per l'ecosistema e per l'ambiente, e sto parlando delle api. Lo facciamo insieme al tecnico apistico Luca Lais, benvenuto. Grazie, grazie di invito. Con te, visto che sei anche coordinatore di Aspromiele, innanzitutto cos'è Aspromiele? Allora, Aspromiele è un'associazione regionale di apicoltori, nata nel 1985, riconosciuta dalla regione Piemonte e fa assistenza tecnica agli apicoltori della regione Piemonte. Teniamo conto che il Piemonte è la prima regione a livello nazionale con importanza apistica, sono presenti tanti apicoltori, l'ultimo censimento dice che ce ne sono più di 7.000 e Aspromiele rappresenta circa il 70-75% del patrimonio apistico regionale. E noi operiamo sul territorio regionale, proprio a fianco delle aziende, su tutte le problematiche che hanno gli apicoltori con le api. Certo, l'ape è un'importanza vitale sia per l'ecosistema che proprio per la specie umana. Se ci vuoi spiegare un po', approfondire qual è la vita dell'ape e la sua fondamentale importanza. Allora, le api, come giustamente detto, sono alla base, è una risorsa che non sempre tutti comprendono come importanza perché a volte, cioè perché è un insetto piccolo, perché non sempre gli si dà la giusta importanza. In realtà noi viviamo, noi ci nutriamo, noi riusciamo a interagire con l'ambiente proprio grazie alla presenza dell'ape. L'ape è alla base dell'equilibrio ecosistemico, se pensiamo a tutte le piante che si riproducono grazie all'impollinazione degli insetti, l'ape garantisce proprio quel fenomeno e quindi è alla base di una catena alimentare, quindi le piante si possono riprodurre, le piante crescono, gli animali possono mangiare queste piante e di conseguenza noi possiamo alimentarci. e questo crea un equilibrio che è molto importante. Il fatto che in questi anni, ma già da un po' di anni si denunci il fatto che gli impollinatori in generale, le api sono a rischio, può creare dei disequilibri in questo senso e quindi le conseguenze poi sono pericolose e vanno evitate. E noi, curando gli apicoltori, curando le api, cerchiamo di aiutare per mantenere questo equilibrio. Le api in realtà andrebbero considerate come superorganismo, cioè la singola ape sappiamo quanto vive, cosa fa, eccetera, però va considerato come la società delle api. La società delle api, molto velocemente, però è caratterizzata dal fatto di avere una regina che è quella che tiene unita tutta il comanda, anche se su questo ci sono teorie diverse, perché c'è chi dice che è la serva di tutti, oppure... Sì, bisogna vedere da che punto di vista si vede. Esatto, però mettiamo che è quella che comunque gestisce tutto l'equilibrio dell'alveare, ce n'è una sola e poi ci sono le api operaie, quindi queste sono invece un numero variabile, ma vanno dalle 20-30 mila fino alle 50-60 mila nel periodo di massimo sviluppo. Questo in un solo alveare. E poi c'è la cassa dei maschi, che invece è quella che è presente solo in un certo periodo dell'anno, che va da aprile fino ad agosto, che è il periodo riproduttivo. Questo è il superorganismo, quindi una regina, migliaia di api operaie e maschi. I ragionamenti vanno fatti per ciascun alveare, quindi dentro un alveare c'è una situazione di questo tipo ed è quello che poi nell'ambiente circostante fa il servizio di impollinazione. Il servizio di impollinazione prelevando anche tante matrici, quindi oltre il polline, il nettare, l'acqua, la propoli, tutto quello che c'è nell'ambiente e lo porta dentro l'alveare. Questo è alla base poi di un'altra parte dell'attività che facciamo, che è il monitoraggio ambientale con l'utilizzo delle api. Però questa è la vita, diciamo, delle api. Poi nel periodo invernale tendono a chiudersi in un glomere, quindi più fa freddo più si difendono dal freddo e quindi l'attività si riduce in tanto. Poi nel periodo primaverile ricomincia lo sviluppo della famiglia e quindi comincia l'attività incollinatrice. Le api sono anche messe a rischio in questo periodo, da ormai un bel po' di anni. Tra i cambiamenti climatici, l'agricoltura magari troppo densa di pesticidi, possono causare dei danni all'ecosistema delle api. Allora, è in questo periodo che si sono vertiti dei cambiamenti climatici proprio sul singolo cittadino, quindi temporali forti, disastri. In realtà questo cambiamento climatico è già anni che sta avvenendo e credo che l'apicoltura sia uno dei primi settori che l'ha vertito. Noi è praticamente 15 anni che abbiamo iniziato a segnalare il fatto che le api raccolgono di meno, che le fioriture sono sfasate rispetto ai periodi classici, quindi le piante tendenzialmente tendono ad anticipare l'epoca di fioritura proprio per l'eccesso di caldo e a volte il cambiamento climatico determina una variazione veloce e importante del clima per cui le api non riescono ad accedere a questa fonte di mettere. Questo crea dei problemi di sopravvivenza per le api e crea dei problemi di gestione per le aziende apistiche perché non danno più un reddito sufficiente agli apicoltori per sostenerle. Questo cambiamento, l'apicoltura l'ha già segnalato, lo sognano da 10-15 anni e non riusciamo però a venirne fuori, l'unica cosa che riusciamo a fare è quella di segnalarlo, abbiamo anche creato delle reti di monitoraggio che sono presenti sul territorio piemontese che rilevano tutti i giorni le variazioni di peso degli alveari quindi per cercare di dare proprio un dato oggettivo di quello che sta succedendo e questo ci sta in parte premiando perché comunque porta in maniera oggettiva alla luce questo problema. Il fatto che le api siano a rischio è vero perché comunque se non ci fossero gli apicoltori che le seguono nell'allevamento le nutrono perché una delle grosse problematiche che abbiamo in questi anni è proprio l'assenza di pascolo apistico cioè di piante che producano nettere che ne producono in maniera abbondante e che siano presenti in superfici ampie quindi mancando la risorsa nettarifera mancando il momento giusto per produrre o al momento giusto capita l'evento atmosferico sbagliato questo porta le api in crisi e quindi capita sempre più frequentemente che gli apicoltori devono nutrirle in momenti che prima non avveniva questo dettagli un aumento delle spese di gestione ma anche proprio un rischio di sopravvivenza delle api questa è una parte poi è vero che l'ambiente ha dei rischi importanti per le api si utilizzano delle sostanze che vanno dai fungicidi dagli insetticidi dagli erbicidi che sono pericolosi per le api negli anni per esempio abbiamo visto un cambiamento nell'effetto sulle api perché abbiamo un progetto di monitoraggio ambientale quindi abbiamo una serie di alveari posizionati in giro sul territorio dove puntualmente andiamo a prelevare delle matrici del polline, della cera, del nettere facciamo le analisi e vediamo cosa viene fuori da queste analisi si è visto che nell'arco degli anni si è passati da degli api cibi molto visibili cioè quindi quando capita che viene fatto il trattamento in un momento sbagliato o con la sostanza sbagliata davanti agli alveari ci sono proprio migliaia di api morte quello è il sintomo più evidente di quello che è successo nel tempo invece questi trattamenti sono cambiati le sostanze sono più suddole e quindi si utilizzano sostanze che in realtà agiscono in maniera molto bassa agiscono sui sistemi nervosi delle api per cui si hanno dei fenomeni di spopolamento quindi non si trovano le api morte davanti ma ci troviamo gli alveari senza api e se andiamo a fare dei campionamenti non sempre troviamo la causa che ha determinato questo effetto perché questi prodotti agiscono in maniera molto piccola però in realtà cosa succede? che ci sono questi spopolamenti ma abbiamo anche evidenziato che quando troviamo dei residui i residui sono delle miscele che sono il fungicida più l'insetticida a volte più l'erbicida che magari sono presenti in piccole quantità le singole quantità non danno un effetto letale ma non c'è nessuno studio che dice il fungicida più l'insetticida più l'erbicida qual è l'effetto complessivo e noi lo vediamo invece con lo spopolamento quindi diciamo che ci sono diverse insidie dalle quali le api si devono difendere e nel tempo stiamo cercando di monitorarli e di portarli alla luce quali possono essere gli aiuti? il settore ha bisogno di aiuti perché comunque l'apicoltura fino a dieci anni fa non aveva grossi aiuti dal punto di vista dei contributi perché comunque è un settore che è riuscito sempre a reggere anche se a fatica ma sostanzialmente era un settore che leggeva negli ultimi anni invece ha bisogno di essere aiutato su diversi settori perché uno è proprio quello per esempio di contribuire alla nutrizione degli alveali perché è diventato un costo che prima non era quasi nullo oggi è invece un costo importante per l'apicoltore perché comunque deve per il periodo invernale a volte nel periodo primaverile sostenere questa spesa ma c'è bisogno di aiuto per aumentare le superfici dove ci sono delle piante tarifere questo è un altro elemento più naturale che invece può aiutare e contribuire allo sviluppo degli alveali altri aiuti che stiamo cercando di ottenere sono per esempio delle coperture assicurative cosa che in apicoltura non esistono non esistono perché comunque è un settore che non è così tanto studiato particolare è molto particolare un po' di nicchia però anche lì stiamo cercando attraverso dei lavori siamo l'anno scorso per esempio come a Spromiele abbiamo realizzato la prima polizza parametrica le polizze parametriche sono delle polizze dove non c'è l'uscita del perito che va a fare la stima ma si stabiliscono prima le regole in base a condizioni climatiche e se si verificano in automatico parte all'esarcimento però sono sempre situazioni che non risolvono il problema sono le polizze sono care ancora perché non si è ancora riusciti a raggiungere in agricoltura è difficile avere delle coperture assicurative vere e proprie esatto quindi anche perché effettivamente è un settore molto a rischio e quindi anche va da sé che le compagnie non tendono ad assicurare insomma non fanno un'attività è un'attività economica anche alla loro e quindi devono applicare una serie di regole economiche però ecco diciamo che il movimento è in atto nessuno di queste ha ancora risolto il problema dell'apicoltore c'è ci sono anche dei regolamenti adesso a livello regionale che danno dei contributi se si portano le api in alcune zone a impollinare quindi è maturata anche all'interno del settore agricolo l'importanza del settore però il cammino è ancora lungo quindi ci stiamo battendo per intanto perché sanno tutti qual è l'importanza dell'ape a questa importanza venga dato un riconoscimento ufficiale di sostegno per mantenere in vita le aziende appunto a livello regionale ci sono dei contributi sia per l'attività già in essere o per chi magari vuole avvicinarsi a questo settore allora sì diciamo che i contributi che ci sono a livello regionale sono dei contributi che sono legati a dei regolamenti europei che finanziano anche per esempio l'assistenza tecnica con la quale lavoriamo noi tecnici ma una parte va proprio alle aziende agricole per cui se comprano una serie di cose che sono previste dal bando hanno una percentuale di contributo a fondo perduto naturalmente questi sono rivolti alle aziende con un certo numero di alveari che fanno un'attività economica questo è il contributo principale che arriva a livello europeo che è più sull'acquisto dell'attrezzatura per avviare l'attività o per ampliarla o per ammodernarla e diciamo che dall'anno scorso a quest'anno sono aumentati e il settore ha reagito fortunatamente in maniera positiva utilizzandoli tutti tra l'altro è importante dire che è un settore dove il contributo quando arriva viene speso tutto quindi c'è una buona una buona partecipazione a questo tipo di attività e questo è diciamo la cosa più importante poi ci sono invece quelli legati alla PAC che è la novità per il settore in cui siamo riusciti a c'è una misura specifica per gli apicoltori che si chiama H18 per cui gli apicoltori che aderiscono e quest'anno è il primo anno a questa misura ricevono un tot ad alveare se portano gli alveari in zone che la regione li conosce come valide per lo spostamento e importanti per l'impollinazione l'altra misura che non è una misura per gli apicoltori ma per gli agricoltori che però interessa agli apicoltori è questa misura dell'ecoschema 5 cioè dove se seminano piante di interesse apistico sono premiati c'è un premio diciamo così per l'apicoltore che ha le api che possono raccogliere quindi c'è un insieme di cose che effettivamente ci aiutano e di questo appunto va riconosciuto all'importanza ma non sono ancora sufficienti quanti apicoltori ci sono in Piemonte allora considerate che a livello nazionale gli apicoltori sono circa 70 mila in Piemonte dove si fa il censimento tutti gli anni quindi un dato preciso sono più di 7 mila in realtà il dato più importante piemontese è legato al numero di alveari perché a livello nazionale ci sono circa un milione e mezzo di alveari solo a livello piemontese ce ne sono più di 200-230 mila questo è per questo che su quello arriviamo come prima regione con importanza apistica a livello nazionale l'ape ha anche una giornata mondiale dedicata il 20 maggio come fare anche a far conoscere le api il mondo delle api ai bambini alle scuole che è di fondamentale importanza partire già con la conoscenza di tutto quindi anche di questo settore proprio a partire dai più piccoli allora è stato molto importante dedicare una giornata proprio specifica all'importanza che hanno le api un degli obiettivi è proprio quello attraverso la didattica di arrivare alle fasce più in evoluzione quindi quelle che stanno crescendo quelle che stanno stanno formando proprio per trasmettergli questi concetti fondamentali che sono il rispetto dell'ambiente in generale ma di questi di questi insetti si fanno diverse attività non solo per il 20 maggio e per la giornata di musicora però ci sono anche tante aziende che apistiche che hanno orientato una parte della loro attività proprio sull'attività didattica e quindi organizzano momenti in apiario dove viene spiegata l'attività dell'ape e l'importanza che ha l'ape per l'ambiente su questo se puoi interessare per esempio come Aspromiele abbiamo realizzato uno spazio su internet che si chiama Aspromaps dove sono elencate tutte le aziende che fanno attività didattica quindi se uno vuole può andare a cercare anche per le scuole che magari organizzano le gite esatto poi abbiamo degli apiari didattici queste sono in realtà a volte delle iniziative legate ai comuni per esempio ne abbiamo a Nichelino abbiamo un apiario didattico che ha sostenuto il comune dove organizzano anche attività didattiche ma anche in altre zone per esempio ad Alba ce ne sono altre e a volte sono proprio legate ad attività sia didattiche che di monitoraggio ambientale quindi hanno questa doppia valenza e diventa e diventa tutto un momento di trasformativo non solo per i bambini ma anche a volte per le scuole abbiamo delle scuole di grado superiore del punto delle superiori dove fanno dei progetti mirati proprio sulla sensibilizzazione per il monitoraggio ambientale quindi uno tra tutti per esempio il Maxwell e il Michelino dove c'è questo progetto che viene seguito bene ed è importante proprio per trasmettere queste informazioni le api producono il miele il miele che ha anche delle grandissime proprietà naturali indispensabili anche per e utili per l'uomo sì l'alveare produce diversi prodotti il miele è il più importante insieme comunque c'è la pappa reale c'è la propoli il polline il miele è un prodotto che non tutti conoscono penso che sembra banale sembra un miglior antibiotico naturale il miele viene considerato un antibiotico naturale quando ci sono delle problematiche che danno soprattutto delle 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 vie aere il famoso acqua con la bevanda calda con il miele esatto credo che siano conosciute da tutti noi come diciamo come indirizzo cerchiamo di spiegare anche bene qual è l'importanza del miele in cucina perché e poi alla fine l'utilizzo che se ne fa in prevalenza c'è addirittura una parte di di formazione che viene fatta proprio sull'utilizzo del miele in cucina e invito tutti a fare una macedonia col miele quindi mettere da parte lo zucchero e il limone ma utilizzare il miele perché a quel punto c'è l'acidità del limone quindi non si ossida la frutta e c'è il dolcificante e l'aromatizzante secondo il tipo di miele che viene prodotto il miele è un prodotto che soprattutto in Piemonte ha tante sfaccettature infatti volevo proprio chiederti quanti tipi di miele ci sono nel nostro territorio allora considerate che su questo possiamo bantare a livello nazionale una tradizione una capacità pistica molto elevata che ci riconoscono tutti e grazie alla conformazione geografica che abbiamo si possono realizzare più di 40 50 tipologie di mieli monoflorali quindi è una è una ricchezza importante in Piemonte ne abbiamo probabilmente più di 20 perché abbiamo partendo dalle produzioni primaverili quindi dai millefiore primaverili al tarasco al ciliegio arrivare alla caccia e poi il castagno il castiglio il castiglio che è anche un miele che è abbastanza importante e conosciuto fino ai miei di montagna quindi con il rododendro l'alta montagna e fino ai miei nuovi ecco una cosa importante da dire che cambiando cambiando le conformazioni vegetazionali del territorio cambiano anche le tipologie di miele quindi per esempio negli ultimi anni abbiamo segnalato per esempio la melata di nocciolo che è una tipologia di miele che è venuta fuori anche all'alta diffusione delle piantagioni di nocciolo oppure ci sono anche delle piante infestanti all'otto non nostre come per esempio la reinutria o il sicios che sono delle piante che tra l'altro fioriscono a tardi estate ma tra tutti i statistici sono importanti perché portano del miele anche monoflorale in certi momenti in cui non c'è quindi ci sono anche un'evoluzione del settore che non è statico sempre sulle stesse tipologie di miele ma dipende dalla vegetazione che come evolve appunto la vegetazione quindi tante tipologie di miele e ciascuna con una sfaccettatura diversa sull'aroma sul gusto andiamo dal dolce confettato dell'acacia fino all'amaro del castagno oppure il balsamico del tiglio e quindi invito veramente a provarle tutte queste questa gamma di tipologie di miele portare le api ci sono gli apicoltori che fanno la transumanza e quindi seguono in montagna in base alla stagione esatto le fioriture durano 10-15 giorni ma a seconda della tipologia e dell'altitudine varie e quindi gli apicoltori inseguono queste fioriture quindi sappiate che dietro un vasetto di miele c'è tanto lavoro lavoro e anche capacità professionali che non sono automatiche che vanno anche a intuito dell'apicoltore perché magari è meglio andare in una vallata che in un altro oppure in una vuota rispetto all'altra perché non tutti non è detto che riescono e chi volesse diventare apicoltore cosa deve fare allora noi in genere sull'inizio dell'attività consigliamo sempre di prendere contatto con l'associazione perché gratuitamente facciamo tutti gli anni dei corsi di formazione che quest'anno ne abbiamo fatti probabilmente più di 10 i quali abbiamo sempre avuto tra i 30 40 anni quindi tante persone che sono interessate ci sono veramente tante persone che sono interessate la tipologia delle persone che si interessano è molto varia e ci sono persone che veramente si interessano magari solo dell'argomento ape e non avranno mai a che fare col settore ma proprio perché sanno dell'importanza dell'ape si si vogliono una cultura personale oppure ci sono persone che si affacciano al settore magari vogliono prendere poi l'alveare e iniziare la loro attività allora noi in genere quello che consigliamo è proprio prima cosa farsi un po' di formazione tanto per capire anche le problematiche perché magari arrivano da dei messaggi sbagliati dove l'apicoltura è facile basta prendere gli alveari dove è il rubinetto da dove esce il miele quindi insomma si parte da dei concetti che vanno un attimino rivisti rivisti quindi nei corsi in genere si danno le informazioni giuste per sapere quali sono i pro e contro e poi nel periodo primaverile c'è anche una parte in campo dove chi vuole può mettere le mani dentro proprio gli alveari la pratica esatto e quindi realizzare veramente cosa vuol dire aprire un alveare visitare le api quindi diciamo che i corsi sono più importanti per quello anche perché da lì può partire poi magari anche un'attività professionale non è detto che finisca solo col corso quello per noi è importante proprio perché è il momento in cui si danno delle informazioni con le quali si entra nel settore in maniera corretta diversamente a volte ci sono delle iniziatività che sono un po' turbolenti aggomitate quindi poi dobbiamo considerare che l'ape ha delle problematiche sanitarie e se io non curo bene le ape creo dei problemi nel territorio non solo a me ma su tutti quelli che sono nel raggio di volo e le alcune patologie si trasmettono quindi il mio problema diventa il problema del vicino e questo non deve succedere in chiusura volevo chiederti una cosa si vede molto spesso capita di vedere degli sciami di ape che perdono la loro collocazione nel caso in cui le persone trovassero degli sciami di api da sole cosa possono fare e perché capita che questi sciami si perdano allora quello in genere è un fenomeno naturale che avviene tra aprile e maggio che è il cosiddetto fenomeno della sciamatura che è il momento in cui le api si riproducono naturalmente quindi metà delle api insieme alla regina escono dall'alveare e vanno a cercare una nuova casa e quindi lì creano questo è un momento di passaggio quindi la prima parte della sciamatura le api si allontanano di poco dagli alveari poi fanno dopo un volo più lungo allora in quell'occasione noi già tra aprile e maggio abbiamo veramente tante telefonate di persone che segnalano e il passaggio da fare è proprio quello cioè segnalare ad un apicoltore o all'associazione la presenza di questo sciame che poi noi ci occupiamo di mandare qualcuno per cercare di recuperarlo è importante perché in questo modo poi non si perdono quelle api che diversamente in natura morirebbero in natura purtroppo hanno un parasito in modo particolare che se non viene affrontato e curato porta alla morte poi delle ali noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite e di aver spiegato meglio questo mondo che c'è dietro questo piccolo insetto però di fondamentale importanza e noi amici di Obiettivo News con questo vi salutiamo vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di terra io mi raccomando continuate a seguirci su Obiettivo News su ONT web e su tutti i nostri canali social alla prossima settimana e su